Benvenuti in questo straordinario video in cui esploreremo fatti biblici supportati dalla scienza. Oggi ci tufferemo in un'affascinante intersezione tra fede e prove scientifiche, scoprendo come la Bibbia, un libro antico, si allinei sorprendentemente con le moderne scoperte scientifiche. Preparati per un emozionante viaggio pieno di emozionanti scoperte che confermano la verità di eventi e personaggi biblici. Abbraccia la meraviglia di come la scienza ci porti a una comprensione più profonda di storie e narrazioni antiche, rivelando una connessione tra fede e ragione. Preparati ad essere ispirato, stupito e stupito dall'armonia tra fede e scienza. Esploriamo insieme questi incredibili fatti biblici supportati da solide prove scientifiche. Nel 2014, un gruppo di studenti di fisica dell'Università di Lestar, nel Regno Unito, ha deciso di mettere alla prova le istruzioni fornite nel libro della Genesi riguardo alla costruzione dell'arca di Noè. Erano curiosi di sapere se l'arca, con le dimensioni descritte nel libro, sarebbe stata in grado di galleggiare. Utilizzando il gomito come unità di misura, equivalente alla lunghezza dalla punta del medio al gomito, hanno standardizzato questa misura a circa 48 centimetri. La Bibbia menziona che l'arca è stata costruita con legno di goffer, ma non si sa con certezza di quale tipo di legno si trattasse. Un'ipotesi comune è che fosse un tipo di cipresso. Considerando questa possibilità, un'arca a vuota fatta di cipresso avrebbe un peso approssimativo di 1,2 milioni di chilogrammi. La domanda era, quale sarebbe stato il peso massimo che l'arca avrebbe potuto sopportare senza affondare. Supponendo che l'arca avesse una forma di scatola, gli studenti hanno calcolato che sarebbe stata in grado di sopportare circa 51 milioni di chilogrammi, equivalente a 2,1 milioni di pecore. Quindi, in termini di capacità di carico, l'arca era più che sufficiente. Tuttavia, sorge la domanda, l'arca avrebbe avuto abbastanza spazio per ospitare due esemplari di ogni animale del mondo? Sebbene attualmente ci siano circa 8 milioni di specie diverse, la maggior parte degli animali potrebbe sopravvivere a un'inondazione senza dover essere nell'arca. Inoltre, gli studiosi biblici sostengono che quando il libro della Genesi menziona o due di ogni tipo creato, si riferisce probabilmente a un numero inferiore di animali rispetto alle specie distinte. Assumendo che la vita acquatica rimarrebbe in mare, gli studenti hanno stimato che sarebbe stato necessario ospitare solo 35 mila coppie di animali nell'arca, il che sarebbe sicuramente fattibile. Per ottimizzare lo spazio all'interno dell'arca, si sarebbero potuti selezionare cuccioli o esemplari giovani di animali di grandi dimensioni, come gli elefanti. Queste conclusioni dimostrano che dal punto di vista della fisica e della capacità di carico, la costruzione dell'arca descritta nella Bibbia sarebbe stata fattibile per ospitare gli animali necessari durante il diluvio, come menzionato nel libro della Genesi. Tuttavia, è importante sottolineare che questa analisi si basa su calcoli e ipotesi e che ci sono ancora dibattiti e diverse interpretazioni di questi eventi. Nel 1990 si è verificata una scoperta archeologica intrigante a Gerusalemme, quando gli operai di una strada hanno trovato un'antica grotta contenente 12 casse di pietra calcarea con ossa umane. Una di queste casse, notevolmente ornata, aveva un'iscrizione che diceva, Giosuè, figlio di Caifa. Questa scoperta ha suscitato grande interesse, piché Caifa è menzionato nei Vangeli del Nuovo Testamento come l'alto sacerdote che presiedette il processo di Gesù. La cassa riccamente decorata conteneva le ossa di un uomo di circa 60 anni, circa l'età in cui si ritiene che Caifa sia morto. Inoltre, gli archeologi hanno osservato che il linguaggio utilizzato sulle casse e sulle pareti della grotta era tipico dei lavoratori dei cimiteri del primo secolo. Una delle casse conteneva persino una moneta di bronzo datata al 43 dici, fornendo una prova aggiuntiva che le casse furono collocate nella grotta durante il primo secolo dopo Cristo. Tuttavia, questa scoperta è controversa. Gli archeologi scettici notano che la cassa non è così sofisticata come ci si aspetterebbe da un luogo di sepoltura, di un alto sacerdote. Mentre altri ebrei ricchi dell'epoca avevano le loro casse con delicate iscrizioni, la scrittura sulla cassa di Caifa sembra essere stata realizzata in modo rudimentale, forse con un chiodo. Inoltre, alcuni linguisti sostengono che il nome ebraico sulla tomba non ha abbastanza sillabe per corrispondere al greco il Caifa e che sarebbe suonato più come il Kofa. Tuttavia, altri argomentano che i greci spesso aggiungevano sillabe extra ai nomi stranieri per renderli più comprensibili. Attualmente, la cassa di Caifa è in mostra presso il Museo di Israele a Gerusalemme, mentre le ossa sono state sepolte sul Monte degli Ulivi. Nel 2008 è stato scoperto un'altra cassa in Israele, identificata come appartenente alla figlia di Caifa, con un'iscrizione che diceva, Miriam, figlia di Yeshua, figlio di Caifa. Sacerdoti di Maazia di Inribet. Queste scoperte archeologiche forniscono prove intriganti sull'esistenza di Caifa e la sua importanza come alto, sacerdote al momento del processo di Gesù. Tuttavia, come accade con molte scoperte archeologiche, ci sono dibattiti e diverse interpretazioni sulla autenticità e il significato di questi manufatti, il che ha portato a controversie riguardo alla loro connessione diretta con la figura storica di Caifa. Nel primo libro dei re è menzionato che il re Salomone costruì un muro intorno a Gerusalemme. Nel 2010, l'archeologa Ilat Mazzar annunciò la scoperta di un muro e altre strutture difensive risalenti al X secolo anno corrente, un periodo associato al regno di Salomone. Queste scoperte furono fatte a Gerusalemme, coprendo l'area conosciuta come Città di Davide, oggi il quartiere di Silvan, e il Monte del Tempio. Il team di Mazzar ha scavato un muro lungo circa 70 metri e alto 6 metri, oltre ad altre strutture difensive, tra cui una torre di guardia e una porta d'accesso alla zona reale della città. Si ritiene che solo il re Davide o suo figlio, re Salomone, avrebbero potuto costruire una struttura così impressionante in quel periodo. Frammenti di grandi giare in ceramica trovati sul sito sono stati datati alla fine del X secolo anno corrente, collocandoli nell'epoca di Salomone. Inoltre, uno dei vasi di stoccaggio riportava un'iscrizione che indicava che apparteneva a un alto funzionario ebreo. Tuttavia, l'archeologo Israel Finchestan solleva interrogativi sull'uso di testi religiosi per identificare siti storici. Sottolinea che è difficile determinare quando questi testi siano stati scritti, se siano stati scritti 300 anni dopo gli eventi o durante il periodo stesso. Inoltre, evidenzia l'importanza di comprendere le motivazioni e l'ideologia dietro la scrittura di questi testi e perché siano stati prodotti. In sintesi, le scoperte archeologiche effettuate da Eilat Mazar, come il muro e altre strutture difensive a Gerusalemme, sembrano essere legate al periodo attribuito al regno di Salomone. Tuttavia, vi sono dibattiti tra gli esperti sull'interpretazione e l'uso di testi religiosi come fonti storiche, sottolineando l'importanza di un'analisi critica e di una comprensione più ampia del contesto in cui questi testi sono stati prodotti. Per quasi 20 anni di scavi nella città di David, gli archeologi hanno fatto una scoperta significativa nel 2014, la cittadella della primavera. Questa massiccia fortezza, costruita verso il XVIII secolo anno corrente, aveva lo scopo di proteggere la fonte di Gion dagli invasori dell'antichità. I muri della cittadella avevano un impressionante spessore di 7 metri, consentendo l'accesso alla fonte solo dall'interno della città. Oltre alla torre principale, è stato costruito un passaggio fortificato per proteggere ulteriormente la preziosa fonte d'acqua. Questa struttura impressionante è stata utilizzata fino alla fine dell'età del ferro. Solo dopo la distruzione del primo tempio, la fortezza è caduta in rovine e ha cessato di essere utilizzata. I ricercatori ritengono che questa cittadella sia la stessa fortezza che fu conquistata dal re Davide, come descritto in 2 Samuele 5, 6-7. Ha anche svolto un ruolo importante nella protezione della fonte di Gion, il luogo in cui Salomone fu un torre di Israele, come riferito in Urre 1, 32-34. Questa scoperta archeologica rafforza il legame tra la storia biblica e i luoghi reali a Gerusalemme. La cittadella della primavera rappresenta una parte essenziale della storia della città, fornendo prove tangibili che corrobo. Durante scavi archeologici nella città di Gat, i ricercatori credono di aver scoperto la città natale di Golia, il gigante menzionato nel libro di un Samuele 17. Gat era una città filistea situata tra Ashkelon e Gerusalemme. Durante gli scavi, gli archeologi hanno fatto una scoperta interessante. Un altare di pietra di 3.000 anni in ottime condizioni, con le corna, simile a quelli descritti nei libri dei re e dell'Esodo. Tuttavia, a differenza degli altari biblici che hanno quattro corna, l'altare filisteo trovato a Gat ne aveva solo due. L'esistenza di una città filistea come Gat è importante perché i filistei sono spesso dipinti come antagonisti, nella Bibbia. Hanno abitato la regione durante i secoli X e IX anno corrente, che corrispondono all'epoca di Davide e Salomone. Gli archeologi hanno scoperto altre tracce della cultura filistea che concordano con i racconti biblici. Ad esempio, hanno trovato una struttura massiccia con due pilastri simili al Tempio Filisteo menzionato nella storia di Sansone. Hanno anche scoperto frammenti di ceramica con nomi scritti simili al nome di Golia, che ha un'origine indoeuropea. Queste scoperte indicano che i filistei hanno conservato parte della loro cultura storica pur adottando alcuni aspetti della cultura locale. Ad esempio, avevano abitudini alimentari diverse da quelle degli israeliti, consumando cani e maiali, che venivano considerati animali impuri nella cultura ebraica. Inoltre, i filistei adoravano i loro propri dei. Gli scavi hanno anche rivelato indizi di battaglie violente tra i re di Gerusalemme e i filistei. Tuttavia, gli archeologi hanno trovato prove di una distruzione successiva di Gat da parte di un esercito invasore nel IX secolo anno corrente, che corrisponde alla storia della conquista della città da parte del re Azael, come riportato nel Libro dei Re. Queste scoperte archeologiche forniscono informazioni interessanti sulla vita dei filistei, la loro cultura e la loro relazione con gli israeliti durante i tempi biblici. Inoltre, contribuiscono a una comprensione più ampia della storia della regione e alla veridicità dei racconti biblici. C'è un dibattito tra gli studiosi sull'esistenza storica di Gesù, ma la maggioranza degli accademici seri concorda sul fatto che Gesù abbia realmente vissuto e sia stato cresciuto, nella fede ebraica a Nazareth. Di recente, l'archeologo Ken Dark ha affermato di aver scoperto una casa del issecolo a Nazareth che potrebbe essere stata il luogo in cui Gesù ha vissuto da bambino. La scoperta iniziale della struttura in Malta e Pietra è stata fatta da suore negli anni 80 del XIX secolo. Gli artefatti trovati all'interno della casa indicano che apparteneva a una famiglia ebraica, come le pentole in pietra calcarea, che erano considerate pure dagli ebrei. Inoltre, Dark ha menzionato un testo scozzese del VI secolo che descrive un pellegrinaggio alla Terra Santa e menziona una, sosta in una chiesa a Nazareth, dove in precedenza c'era la casa in cui il Signore trascorse la sua infanzia. È importante notare che l'identificazione della casa come quella di Gesù avvenne durante il periodo bizantino, quando furono aggiunti mosaici alla struttura e una chiesa fu costruita sul sito per proteggerla. Tuttavia, la casa fu incendiata nel XIII secolo. Dark sottolinea che non siamo sicuri se la casa appartenesse effettivamente a Gesù, solo che i bizantini lo credevano. Inoltre, alcuni archeologi mettono in dubbio le motivazioni di Dark, suggerendo che potrebbe avere una necessità di localizzare tutto menzionato nelle sacre scritture, il che potrebbe portare a conclusioni affrettate. Inoltre, l'unica menzione di questo luogo in una lettera oscura della Scozia solleva alcune domande senza risposta. In sintesi, la scoperta della possibile casa di Gesù a Nazareth è interessante, ma è importante riconoscere che il suo collegamento diretto con Gesù è ancora oggetto di dibattito e richiede ulteriori prove e studi. L'archeologia e l'indagine storica continuano a gettare luce sulla vita di Gesù e sul contesto in cui ha vissuto, fornendo una prospettiva più ampia sugli eventi descritti nelle sacre scritture. Izebel, una figura notoria nella Bibbia come una delle donne più malvagie, viene menzionata in diverse passaggi. Si sposò con il re Achab di Israele nel IX secolo anno corrente, nonostante fosse fenice e adoratrice del dio Baal. Secondo la Bibbia, Izebel complottò per persuadere gli israeliti ad accettare la sua religione falsificando il sigillo di Achab su documenti. Ciò alla fine portò alla sua morte, dove fu gettata da una finestra e divorata dai cani. Gli storici da tempo dibattono sull'influenza indipendente di Izebel rispetto all'autorità di Achab. In altre parole, si chiedono se potesse davvero essere così malvagia come viene descritta nella Bibbia. Una possibile risposta potrebbe essere trovata in un sigillo di pietra scoperta in Israele nel 1964. L'iconografia del sigillo include due serpenti, un falco orus e un disco solare alato, che la studiosa dell'Antico Testamento Marjo Corpel interpreta come una connessione con la regalità. Inoltre, la presenza di un fiore di loto e una sfinge con una testa di donna e una corona implica che il sigillo fosse utilizzato da una regina. Se il sigillo appartenesse realmente a Izebel, ciò indicherebbe che possedeva un notevole potere politico proprio. Tuttavia, gli archeologi hanno incontrato difficoltà nell'associare direttamente il sigillo a Izebel. Le iscrizioni sulla pietra erano confuse e il nome sembrava essere scritto in modo errato. Tuttavia, confrontando il sigillo con altri sigilli dello stesso periodo, è emerso che una parte del bordo superiore del sigillo mancava, probabilmente contenente le due lettere necessarie per scrivere correttamente il nome di Izebel in antico ebraico. Ci sono ancora alcune questioni irrisolte. Piché il sigillo non è stato scoperto tramite scavi archeologici, ma nel mercato delle antichità di Israele, la sua origine esatta rimane incerta. Anche se ciò non è insolito, piché solo il 10% dei sigilli ebraici antichi viene scoperto tramite scavi scientifici. Inoltre, esperti come Christopher Rolston osservano che la parte mancante del sigillo è abbastanza grande da contenere almeno 5 lettere aggiuntive, non solo 2. Le lettere mancanti potrebbero formare diversi nomi o parole diverse. Alla fine, è improbabile che possiamo essere certi dell'origine esatta del sigillo, ma possiamo affermare che apparteneva a una donna di grande potere. Quando arriviamo alla fine di questo video, possiamo concludere che la scienza e la fede non sono in conflitto, ma in armonia. Attraverso l'indagine scientifica, siamo riusciti a trovare prove che confermano molti dei resoconti e degli eventi descritti nella Bibbia. Dalle scoperte archeologiche alle scoperte scientifiche, queste prove ci forniscono una comprensione più profonda e una rinnovata fiducia nell'accuratezza dei resoconti biblici. Esaminando i fatti biblici alla luce della scienza, non solo rafforziamo la nostra fede, ma apprezziamo anche la bellezza e la complessità della creazione. La scienza ci permette di contemplare la grandezza dell'universo e l'impressionante ordine che esiste in tutte le cose, evidenziando l'esistenza di un creatore intelligente. Il nostro viaggio ci ha mostrato che la Bibbia non è solo un libro religioso, ma contiene anche una ricchezza di preziose informazioni storiche e scientifiche. Integrando fede e scienza, possiamo avere una visione più completa e arricchente del mondo che ci circonda. Possa questo video essere fonte di ispirazione e stimolo per cercare una comprensione più profonda dei principi, biblici e scientifici. Ricorda che la scienza e la fede possono coesistere, ampliando la nostra conoscenza e rafforzando la nostra connessione con il Divino. Continuiamo a esplorare, imparare e abbracciare questa affascinante intersezione di fede e scienza.